Quali sono questi aspetti legati all'imprinting? Beh, ci sono diversi punti, diversi aspetti che sono collegati all'imprinting e sono la conflittualità, che abbiamo detto può essere materna o paterna, quindi questo è un primo punto fondamentale, perché noi possiamo essere, un saluto a Stella Marina, benvenuta, conflittuali madre o conflittuali padre, poi abbiamo la polarità, che è basata sul desiderio e sul possesso, e abbiamo la struttura che può essere iperlogica o emotiva. Ecco, questi tre punti, saluto anche Cimbro01, questi tre punti, Lady B, Lara e Stella Marina, questi tre punti costituiscono l'imprinting. Quindi, se vi dico, da cosa è formato l'imprinting? L'imprinting di base è formato da queste cose. Da queste nascono tutti gli altri. Quindi, conflittualità genitoriale, madre e padre. Ora, perché sono in conflitto a livello genitoriale? Quindi, è importante questo concetto, spero che lo assimiliate bene, perché poi tornerà veramente molto utile e comprendere queste cose, ci serviranno, saluto anche Andrea Cerato, per poi raggiungere, diciamo, la capacità di utilizzare il simbolismo su noi stessi e la capacità di usare il simbolismo verso le altre persone. Quindi, ripeto, l'imprinting è formato e poi si svilupperà da un conflitto genitoriale che può essere o materno o paterno, oppure con entrambi. Quando si ha un conflitto con entrambi, si ha la commutazione del conflitto al conflitto ego. Poi c'è una polarità, esserlo avere, cioè o desiderare di più di quanto si possiede o desiderare di meno di quanto si possiede. E poi, per finire, la struttura emotiva o iperlogica. Ora, detto questo, come utilizzare? Allora, cerco di fare un altro disegnino. Allora, perché viviamo un conflitto? Ecco, questo qua è interessante. Conflitto, abbiamo detto, parte sempre dal conflitto genitoriale che poi può diventare un conflitto con l'ego. Ma perché posso entrare in conflitto genitoriale? Per quale motivo? Perché posso sviluppare un conflitto genitoriale? E questa è la parte fondamentale. Perché il genitore, causa dei miei problemi, potrebbe avermi fatto vivere l'abbandono. Potrebbe avermi fatto vivere la disistima. Potrebbe avermi fatto vivere il condizionamento. Potrebbe avermi fatto vivere il senso di colpa. Potrebbe avermi fatto vivere il rifiuto. Potrebbe avermi fatto vivere il... Allora, abbandono di istima, senso di colpa, il timore del giudizio negativo, la paura di essere giudicato. Ci siamo, salutiamo anche Mari Faci, altra persona fondamentale. E poi il timore del giudizio. Allora, questo genera il conflitto e il conflitto si può, si ribalta, si può ribaltare sull'ego. Quindi questo è lo schema. Parte sempre dal conflitto genitoriale, però può ribaltarsi poi sull'ego. Quindi, oh, saluto a Stefano Gatto, eccolo qua. Quindi abbiamo la partenza di un conflitto. Il conflitto mi genera, diciamo, genitoriale, partiamo sempre da quello. È per abbandono, disistima, condizionamento, senso di colpa, rifiuto, paura di essere giudicato negativamente, paura di essere, scusate, comparato, paura di essere svergognato, diciamo così, svergognato e paura di essere giudicato. Queste paure, diciamo, qualora la persona abbia sviluppato anche un conflitto con il secondo genitore, possono essere ribaltate, diciamo, anche sull'ego. L'ego, che cos'è? È la parte autopercettiva di se stessi. Quindi questo conflitto, diciamo così, si manifesta attraverso tutta una serie di, diciamo, tutta una serie di turbamenti, se vogliamo, abbandono, disistima. Questi turbamenti hanno origine da due fonti principali. Poi faccio una foto e la metto nel... e la metto nella community. L'attaccamento, o per meglio dire, aspettativa di attaccamento. Oppure, diciamo così, attaccamento e poi a cui abbiamo, diciamo, rabbia, rabbia e rancore. Dove vengono fuori tutta una serie di paure. Allora, questo è un po' lo schema che produce, diciamo, che produce praticamente l'imprinting, no? Come si manifesta a livello di percezione e questo conflitto genitoriale? Beh, si manifesta proprio attraverso queste paure. Queste paure che noi abbiamo visto, che può essere la paura di essere abbandonato. Diventa una paura, fondamentalmente. Raschi, su paura è raschi. Eh, ma io ho molte paure. È vero, è comunque. Bravo, bravo. Su paura è raschio. Mi ha sgamato il nostro... Il nostro Stefano Gatto è un top, è un top. Poi, comunque, l'abbandono, disistima, condizionamento, senso di colpa, la paura del senso di colpa, la paura del rifiuto. Quindi tutte queste paure vanno di fatto ad alimentare il conflitto. Perché il conflitto nasce poi... Qual è l'origine... Adesso faccio uno schema un po' complicato. Qual è l'origine del conflitto, alla base del conflitto? C'è il desiderio, possesso. Perché partiamo sempre dal desiderio e possesso. Quanto desidero rispetto a quello che ho ricevuto? E qua si crea praticamente un loop. Con un nodo. Questo è un po' lo schema che è venuto fuori, no? Quindi adesso faccio una foto, così magari la metto in community... Su foto anche raschio. Adesso sto raschiando perché è un po' di... Allora, faccio una foto e la posto in community. Vediamo un po'. Così potete guardarla. Allora, mettiamo la foto. La togliamo da pubblico, la mettiamo a abbonato a livello base superiore. Ok. Quindi, foto con 8 megapixel. Quindi questo è un po' come si, diciamo, sviluppa, no? Il conflitto. Poi abbiamo dei meccanismi di difesa. Il meccanismo di difesa in realtà è un sistema di protezione del conflitto perché attaccamento e rabbia generano meccanismo di difesa. Il meccanismo di difesa è sempre logico. I meccanismi di difesa possono essere tanti. I meccanismi di difesa possono essere tanti. Possono essere, ad esempio, creare... Sono tantissimi meccanismi di difesa, diciamo così, Sono, ad esempio, comportamenti stereotipati. Cioè la persona mette in atto dei comportamenti che conosce, no? Questo è un altro meccanismo di difesa. Un meccanismo di difesa è il narcisismo, ad esempio. Però, diciamo, iperlogicità Città che se cresce diventa cinismo E se cresce diventa narcisismo E se cresce ancora diventa narcisista sociopatico Narcisismo barra sociopatia con... E qua siamo i folli, la follia. Poi mettiamo alla fine, cioè, pura follia. Quindi perdita di ogni collegamento con la realtà. Quindi, praticamente, lo schema diventa un po' più complesso. Però avete un'idea, diciamo, di come si può manifestare, Di come inizia a manifestarsi l'imprinting. Ora faccio la foto completa anche di questo, Così vi resta anche questa parte. E potete guardarla. Ora, perché è importante tutto questo? Perché noi abbiamo la possibilità di interagire con questo imprinting. Abbiamo la possibilità di lavorarci sopra. Questa è una cosa fondamentale. No, adesso sto raschiando anche perché stasera ho mangiato Un pezzo di formaggio che praticamente non mi è andato giù. Formaggio Robiola che fa cagare. Scusate il termine. Vediamo un attimino di mettere in community. Allora, vi trovate anche questa seconda... Quello secondo disegno. Allora, quindi... Un seminario sull'imprinting magari lo faremo, lo faremo. Allora, quindi alla fine, attraverso questo piccolo schema, Riusciamo a risalire. Quindi l'iperlogicità, diciamo, che avevo messo nell'imprinting, Interviene, diciamo, come meccanismo di difesa, no? Quindi... Quindi alla fine l'imprinting è... Potevo mettere qua il meccanismo di difesa. Tra i principali abbiamo il cinismo, eccetera. Ora, tutto questo ambardan di cose che ho messo assieme, Beh, interagiscono tra loro in modo dinamico. Per cui noi possiamo, diciamo... A cosa ci serve tutto questo? Beh, ci serve per definire e per chiarire, un attimino, Fatto verso gli altri, quali sono le caratteristiche... Quali sono le caratteristiche delle emozioni che viviamo fondamentalmente? Quali sono le caratteristiche dell'imprinting? L'imprinting, quindi, ha... Parte da un desiderio che non riesce ad andare... Ecco, ascoltate bene la storiella. L'imprinting nasce da un desiderio non soddisfatto. Questo desiderio non soddisfatto genera un conflitto. Questo conflitto si manifesta, diciamo, attraverso delle paure, tra virgolette, con c'è Stefano Gratto. Paure di abbandono, paure dell'esistima, paure del condizionamento, paure del senso di colpa, paure di essere rifiutato, paure di essere svergognato, o svergognata e timore di essere giudicato negativamente, timore del giudizio. Quindi queste paure, diciamo, si manifestano sia per le persone che hanno avuto solo un conflitto genitoriale, sia per quelli che hanno avuto anche un conflitto, poi il ribaltamento con se stessi e c'è il tradimento. Ricordiamoci che il conflitto, il passaggio a ego, dipende di qua, dipende dal tradimento. Quindi c'è anche questo concetto di tradimento. Ora, quindi l'imprinting nasce da un desiderio che non si è fatto possedere del tutto. il cinico è una persona apparentemente glaciale, tende ad essere giudicante e anche abbastanza negativamente delle altre persone. Quindi abbiamo il conflitto che genera, c'è il desiderio, il possesso che genera un conflitto, questo conflitto va a innescare un meccanismo difesa. Per cui il meccanismo difesa va ad aumentare il conflitto con la persona, perché ovviamente il meccanismo difesa va ad aumentare il conflitto e quindi poi aumentano anche tutte le, diciamo, oh abbiamo anche Roxy, aumentano anche tutte le possibilità. Allora, quindi, riassumendo, noi partiamo dal desiderio possesso, quanto desideriamo in luogo di possedere, possesso, allora, dal desiderio possesso generiamo un conflitto, e qui mettiamo materno, paterno, eccetera, quello che è. Questo conflitto da un meccanismo difesa viene attenuato e il meccanismo difesa va a calibrare, diciamo, va a calibrare il desiderio e il possesso. Qua abbiamo il feedback, quindi questo è il feedback, il meccanismo difesa quindi rappresenta un feedback, qua abbiamo l'ingresso e qua l'uscita. Quindi questo è lo schemino, lo metto anche questo nella community, di partenza. Quindi, da cosa è nato, ora dovete sapere, da cosa è nato un imprinting? Un imprinting è nato da un desiderio non soddisfatto, quindi il desiderio può essere desiderio non soddisfatto oppure soddisfatto eccessivamente, quindi questo è è la modalità. Metto anche questo in community, allora, mettiamo in community, vediamo se c'è. Allora. ok, comunque lo schemino è trovato in community e è abbastanza semplice. Allora, quindi una volta che noi abbiamo innestato questo meccanismo, possiamo utilizzarlo sugli altri o su noi stessi. sugli altri a quale pro usare, diciamo, un sistema cibernetico come questo per migliorarci? In che modo, fondamentalmente? Bene, diciamo, intanto, il punto, se il conflitto nasce dal desiderio del possesso e che ha innescato inevitabilmente ma inevitabilmente un processo circolare, un modo per ridurre il conflitto, ad esempio, è diciamo dare possibilità ad esempio a persone che hanno dei canali di abbigliamento come la nostra stella marina che aprirà presto la, come si dice, comunque, il desiderio non soddisfatto crea desiderio del lutto, sì, il desiderio non soddisfatto genera il conflitto, il conflitto genera il meccanismo di difesa e il meccanismo di difesa va a aumentare o diminuire il desiderio perché il meccanismo di difesa ci difende dalle emozioni ma potrebbe invece attaccarci anche attraverso le emozioni perché io attraverso il meccanismo di difesa scarto, diciamo così, delle persone però poi è come se mettessi una diga, no? E quello è il discorso un po' degli iperlogici il meccanismo di difesa ad esempio il meccanismo di difesa è l'iperlogicità poi abbiamo altri tratti ossessivi compulsivi insomma sono diversi tratti però è importante diciamo capire che se vogliamo come dire imparare a gestire gli imprinting dobbiamo imparare a gestire il desiderio e il possesso quindi quanto naturalmente vogliamo desiderare quanto naturalmente vogliamo possedere questo è un po' il concetto in fondo se io fossi completamente libero o libera che cosa diciamo che cosa farei per desiderare di più o possedere di meno quindi oppure viceversa quindi se noi non avessimo dei vincoli vorremmo solo possedere ci innamoreremo desiderando quali sono perché dalla distonia come dire dalla differenza tra desiderio e possesso nascere il conflitto ora nascere il conflitto non è un qualcosa di negativo deve essere però utilizzato bene deve essere semplicemente il conflitto deve essere semplicemente utilizzato per il meglio soltanto usando il conflitto al meglio cioè cercando di ridurlo noi possiamo raggiungere dei risultati come facciamo a ridurre il conflitto riducendo la distonia tra desiderio e possesso e automaticamente riduciamo anche il meccanismo difesa perché il meccanismo difesa è diciamo il feedback che noi abbiamo qua in realtà poi ci sarà un'uscita ci sarà un diciamo un comportamento quindi quindi il meccanismo cibernetico è questo ecco la nostra stella no stella marina la nostra è una domanda che tu hai già fatto e l'altra volta mi sembra di averlo spiegato bene probabilmente non l'ho spiegato nel modo giusto noi tutti dobbiamo desiderare non è vero che chi si aggancia sul possesso non deve desiderare assolutamente il desiderio dobbiamo stimolarlo in tutti ma in un substrato energetico dove mettiamo 100 quindi alla fine il desiderio più possesso fa sempre 100 quindi desiderio più possesso deve fare sempre 100 ok questa è un'equazione quindi è evidente che se il desiderio è 10 e il possesso sarà 90 perché il risultato è sempre 100 se abbiamo 20 sarà 80 risultato sempre 100 se sarà 30 sarà 70 risultato sempre 100 se abbiamo 40 più 60 50 più 50 40 più 60 no dunque 30 no 10 20 30 40 50 60 più 40 70 più 30 80 più 20 e 90 più 10 e 100 più 0 40 questa è tutta la tabellina diciamo che uno equilibrato potrebbe essere un 70 30 o uno di questi due potrebbe essere equilibrato anche il 50 e 50 quindi queste sono questa è la tabellina che adesso faccio la foto e riporto anche questa diciamo fotografia nella community così vi resta diciamo la possibilità di guardarla e di ragionare questo perché adesso andremo a vedere altri concetti molto importanti quindi questa tematica viene trattata un po' diciamo come possiamo dire questa tematica e vabbè lo sappiamo che stai dicendo magari lo sei tu Eleonoressa non ci sei solo tu al mondo ecco vedete questa magari l'ETB non lo sa qualcuno non lo saprà e comunque che cazzo di cosa è cioè allora non è che tutti ci agganciano sul desiderio non è che tutti ci agganciano sul desiderio è sempre un cappuccino devo sempre far desiderare voi dovete sempre partire dal desiderio ma quanto devo far desiderare tanto o poco il desiderio deve essere maggiore del possesso o il possesso maggiore del desiderio non può mai essere uguale perché se però non vuol dire che una persona che ha possesso maggioritario rispetto al desiderio non diciamo non possiede assolutamente no come si aggancia sul possesso ma come si aggancia sul possesso lo possiamo lo possiamo vedere l'abbiamo l'ho già visto la volta scorsa allora le persone che si agganciano sul possesso tendono ad essere etero attributive marcatamente tendono ad essere persone che vivono un po' in modo ossessivo compulsivo le relazioni tendono ad avere degli scarichi diciamo sul lato sinistro del corpo tendono a parlare poco e fare tanto tendono a prendersi degli impegni anche a tempo breve e comunque rispettarli poi sono molto più pragmatici se vogliamo e meno spirituali di quelli che si agganciano maggiormente sul desiderio perché le persone che si agganciano maggiormente sul desiderio tendono a vivere una vita spirituale un po' più ricca il che non vuol dire che gli altri siano degli stupidi trogloditi ma danno la possibilità di diciamo ma danno la possibilità di di ottenere dei risultati interessanti insomma gestendo desiderio e possesso quindi noi dobbiamo sempre partire dal desiderio del possesso quante volte dobbiamo dare stimoli legati al possesso perché il possesso può anche essere utilizzato diciamo come dire per far vivere una mancanza ci sono persone che hanno bisogno di possedere molto quindi se li togli quello che hanno e tu acquisisci molto potenziale altrimenti non si capirebbe perché diciamo certe persone in amore si agganciano su persone negative cioè se non esistesse questo meccanismo non ci innamoreremmo anche delle persone sbagliate o qualcuno che si innamora soprattutto delle persone sbagliate è importante imparare a diciamo i due simboli non è che non possono essere uguali se sono uguali ci sono degli scontri molto forti soprattutto maschio con maschio avete mai visto che i maschi si danno le corna questo per rispondere a Roxy Rosa bene comunque spero di aver inquadrato un attimino perché poi entriamo sempre più in dettaglio questo è un tema lungo entreremo sempre più in dettaglio quindi non possono essere uguali perché come dire azzererei totalmente l'energia ma approfondiamo bene andatevi a vedere le foto che ho messo e ci vediamo al prossimo alla prossima puntata ciao a tutti ciao a tutti